Finalmente è il momento della scroll box di ottobre e non vedevo l'ora di fare il video nonostante non contenga cose particolarmente nuove per me, però proprio perché sono cose che già conosco ero comunque un po' smaniosa di fare il video perché comunque non erano cose che un po' mi mettevano tra virgolette paura prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e anche di seguirmi sui social, soprattutto Instagram e trovate il link sotto nell'info box io direi che come prima cosa possiamo andare ad assaggiare queste carangeline che io non vedo l'ora come vedete io non le ho toccate e sono Parma Violets, Swizzle e sono comunque vegani senza coloranti, non lo so, mi piaceva proprio questo fatto che fossero delle pastiglie a volte in questo modo mi attiravano, quindi adesso devo andare ad assaggiare profumano effettivamente di violetta ed è strano come per essere appunto una caramella comunque non sono di nulla bene comunque i dolcetti delle scroll box lascio sempre un po' a desiderare comunque andiamo subito a vedere il contenuto della box e il disegno che ho fatto io allora questo che è il disegnino che ho fatto io lo faccio vedere dopo ma se mi seguite su Instagram e l'avete già visto questo è il contenuto della scroll box ovviamente tutto distrutto perché ho già provato tutto e comunque non vi voglio anticipare nulla andiamo a vedere dunque abbiamo l'artista del mese che ha realizzato con i prodotti della scroll box questo disegno molto carino perché è molto nel mio genere più o meno che è di Drawing with Waffles molto carino e quindi niente questo è il disegno che ha fatto lei poi lo metteremo a confronto con quello che ho fatto io qui abbiamo la lista delle cosine poi vi dico abbiamo come diciamo omaggio una spilletta proprio con il simbolo della scroll box che è a special gift for you to celebrate our 50th box quindi la cinquantesima scatola hanno voluto fare questa cosa che io sinceramente userò perché mi piace l'attaccherò tipo nell'astuccio cose così comunque è carino e anche l'adesivo del mese è fantastico perché è tutto tutto glitteroso e questa cosa mi piace troppo è nel mio genere allora il pezzo forte lo lascio alla fine iniziamo dalla matita perché c'è sempre la matita nella scroll box e questa è della Faber-Castell The Sim Pencil c'è scritto che Faber-Castell crea praticamente delle matite di alta qualità dal 1660 ed è questa ed è praticamente nasce, praticamente è originario di Nürnberg in Germania e continuano ad essere le matite comunque che meglio di tutte appunto si riconoscono e che sono comunque conosciute appunto come fabbiatori di matite in tutto il mondo questa in particolare dalla The Sim Pencil è ideale per gli sketching per i bozzetti o anche per il o anche per scrivere e così come le altre matite Faber-Castell la punta subisce proprio un particolare processo di incollatura che rafforza praticamente la mina e permette quindi di essere anche meglio temperata così puoi creare senza troppa fatica delle linee molto precise e anche dei dettagli molto particolari negli sketch e quindi questa sembra essere la matita che rivoluziona il mondo poi abbiamo questa fantastica gomma che è contenuta in questo contenitore era avvolta nel cellophane io ovviamente l'ho tolta perché l'ho utilizzata come vedete ed è una gomma pane questa è praticamente della marca Lira c'è scritto che è una particolare tipologia di gomma che è disegnata proprio studiata quindi per facilitare comunque l'estrazione e comunque per rimuovere qualunque segno di matita la gomma può essere anche modellata infatti è tipo il pongo insomma in diverse appunto forme utili e anche in misure quindi si può anche rompere in pezzetti per aiutare proprio a meglio di tutti appunto lavorare e in modo più efficiente ed è quindi uno strumento essenziale per tutti gli artisti comunque che fanno sketch ed è fornita appunto di questa chiusura portatile che permette appunto anche di lasciarla pulita e la cosa che mi è piaciuta di questa gomma è che in effetti non l'apertura è sempre un po' problematica non lascia nessun residuo l'apertura è orrenda infatti io penso che la lascerò aperta perché veramente ecco come vedete io l'ho utilizzata e comunque sì la cosa perfetta è perfetta insomma fantastica che non lascia residui quindi questa ok poi abbiamo questa matita in gel bianca che va shakerata prima dell'uso e questa praticamente è la marca derwent derwent white paint pen allora ho scritto che questa penna che comunque è idrosolubile crea praticamente una un inchiostro molto opaco che può essere quindi messo sopra steso quindi sopra i vostri lavori o può essere anche sfumato sui vostri appunto disegni quindi si possono creare anche delle passate diciamo trasparenti diluendo l'inchiostro con pennelli appunto ad acqua o anche waterbrush nel mio disegno questo non l'ho fatto perché non avevo bisogno e ovviamente fino a che ancora è umida una volta che si asciuga non si può più diluire e una volta che è asciutto l'inchiostro sarà fissato in modo permanente di modo quindi che quindi può essere utilizzata proprio per creare questo effetto acquerello e oppure anche per creare degli effetti un pochino più bold come si dice più più intensi insomma di pigmento oppure delle linee più sottili quindi è molto molto versatile e quando quindi avete bisogno di controllo di precisione la punta molto sottile è di infatti è 0,5 è ideale appunto per aggiungere delle linee a vostri lavori appunto molto delicate come anche un tratteggio e quindi lavora anche molto bene con altri strumenti e quindi è fantastica per creare più quindi passate sui lavori insieme appunto anche a magari a dei tratti più più forti per dare quindi molta più vita ai lavori quindi questa penna mi piace veramente tantissimo proprio perché è molto molto versatile e poi abbiamo i due fogli di carta che sono praticamente cancel the wall si chiama questa carta 220 gsm c'è scritto che è una carta rivoluzionaria che è studiata specificamente per gli artisti che creano graffiti per gli illustratori e anche i disegnatori il nome the wall deriva dal fatto che si comporta proprio questa carta come un vero muro con appunto i tratti con i disegni perché appunto li rende opache che appunto è una superficie opaca evita di spargimenti insomma di colore e anche il passaggio del colore attraverso il foglio quindi è molto resistente anche ai marker con l'alcol e vi permette di disegnare in modo preciso e che è chiaro con anche penne dalla punta molto molto sottile così come anche con i marker quelli più 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 grossi e proprio per questo suo carattere diciamo fabbricazione particolare l'inchiostro non passerà mai attraverso appunto il foglio anche a più anche se fate più passate di marche tanto non passo dall'altra parte e quindi questi due fogli ti daranno di realtà quattro superfici su cui appunto disegnare o comunque scarabocchiare e quindi puoi riuscire a rompere il muro carino non ho letto l'introduzione qui alla scrollbox di ottobre che dice che per celebrare la cinquantesima edizione si sono praticamente uniti a uno degli artisti più conosciuti di youtube e ai suoi appunto colori preferiti dei disegni e quindi affronta la sfida e vedi se riesci a creare un piccolo appunto disegno con una paletta di colori molto limitata e l'autrice di questo disegno dice che si ispira agli outfit of the day alla moda soprattutto appunto di recente perché quindi c'è scritto perché non ricreare un proprio il proprio vostro stile di abbigliamento o interpretare quello che voi state indossando appunto oggi però tutto sui toni del del viola e non dimenticate di aggiungere anche un po' di glitter e sarete pronti per il red carpet tip del mese ci dice che provando appunto a stratificare i marker ci potranno essere appunto queste variazioni di colore che aiuteranno a creare più contrasto anche se avete pochissimi colori a disposizione e infatti questo mese abbiamo ben quattro prodotti Copic e questo io lo trovo veramente fantastico solo che di questi quattro io due già li ho però due no quindi via ci può stare praticamente questo io già ce l'avevo questi sono i Copic ciao il BV 00 già ce l'avevo però il BV 04 non ce l'avevo quindi diciamo può andare così come questa penna glit di spica io già ce l'avevo però vabbè una in più non famo male mentre non avevo la penna questa da inchiostro color wine quindi questo color porpora bellissimo quindi qui ci dice questo è praticamente il Copic Purple Doodle Pack questo piccolo pacchetto è diciamo ti introduce in modo appunto perfetto ai prodotti a vari prodotti Copic con questa combinazione di penne e marker che comunque sono tutti in tinta quindi sono diciamo abbinati come colori avrete tutto quello di cui avete bisogno per iniziare a fare degli schizzi comunque creativi o anche dei disegni e questo set include due ciao marker doppio doppio lato una penna glitter e questo appunto multiliner Copic dal 0,3 mm i marker ciao hanno una doppia punta che ha una punta a scalpello media per creare appunto delle passate tipo pepe tipo tipo bracci tipo pennello e quindi li rende questo molto 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 versatile e hanno anche appunto la punta a pennello questa inoltre hanno le punte che si possono cambiare e sono anche ricaricabili che quindi permette di utilizzare questi pennelli per tutta la vita la penna glitter è ideale per aggiungere un tocco di di appunto di spacco ai vostri lavori mentre la penna multiline ha una punta di alta qualità ma questo è indubbio ed è molto molto pigmentata è anti sbavatura e l'inchiostro dura ma ok i prodotti Copic sappiamo che sono fantastici e praticamente questo è il disegno che ho fatto io il tema la challenge del mese è dressed to the nines e quindi io l'ho ideata tipo una ragazzina manga che va a scuola con la classica divisa un po' scolaresca e quindi vorrei far vedere non so se si notano i glitter ho aggiunto i glitter praticamente sui fiocchi e anche sulla scarpa io spero che si veda comunque su instagram ho postato una foto in cui no una foto un mini video in cui comunque questo effetto si vede e questo è quello che ho realizzato come vedete qui ho fatto una doppia passata del marker e infatti tra questo e questo c'è comunque una differenza di colore quindi si sono colori stratificabili e niente ho aggiunto un tocco di glitter anche negli occhi e quindi questo è il mio disegno ho notato che la penna questa bianca essendo con la punta che si deve comunque spingere per far uscire l'inchiostro tende a rilasciare lì per lì parecchio inchiostro io ci ho fatto qui le rifiniture della gonnellina e della scarpa e un po' di effetto un po' più glow qui insomma tende quindi a rilasciare parecchio inchiostro e poi ho notato comunque che i marker tendono a quando li si usa ad allargare l'inchiostro che rilasciano però non creano mai un effetto eccessivo quindi è un effetto strano che però alla fine non non crea disastri sul disegno e quindi niente questo è quello che ho fatto io se il mio video vi è piaciuto mettete un pollice in su lasciate un commento se volete sapere qualcosa e noi ci vediamo al prossimo video ciao